Musica Ben trovati a questa nuova puntata di E-Ristrutturazioni e Design. In studio con me Stefano Vicco, ve lo presento subito, benvenuto. Buonasera a tutti. Benvenuto o meglio ben trovato. Il titolare di Vicco Arredamenti è già stato ospite nei nostri studi e proprio in quell'occasione abbiamo presentato Guida all'acquisto sicuro. Andiamo un po' a ritroso perché è importante, perché siete arrivati a redigere questa guida, perché acquistare mobili sicuri, sicuri vuol dire di qualità, è importantissimo. Per quali ragioni? Sì, l'acquisto sicuro ritengo sia forse quasi una rarità perché sentendo un po' il mercato, la voce dei clienti, ogni giorno vediamo che c'è questa esigenza di sicurezza, cioè di fidarsi di un interlocutore che sia sano, che sia affidabile. Noi su questo abbiamo lavorato da tanti anni anche grazie al nostro team su cui credo, di cui ho molta fiducia e riusciamo a creare dei rapporti con il cliente che sono duraturi dal punto di vista non solo del business, ma anche proprio della fidelizzazione delle persone, che ci attribuiscono, ci danno questa fiducia e noi cerchiamo di fare di tutto per ricambiarla e quindi non lasciarli mai a piedi anche nel post vendita soprattutto, per cui molti hanno dei problemi negli anni a venire. Quindi curiamo il cliente, cerchiamo di prenderlo per mano dall'inizio alla fine. E questa è proprio la differenza del rivolgersi alle grandi catene rispetto a un negozio che ha una lunga storia, non molto radicato sul territorio. Certo, certo. Sì, noi da anni abbiamo affinato un po' le nostre armi nel senso che dando al servizio una grande importanza e quindi il cliente che si affida a noi inizia diciamo anche facendo dei preventivi e già dall'inizio cerchiamo di rassicurarlo, dandogli anche la possibilità di scegliere tra una vasta gamma di prodotti. Però l'obiettivo è quello comunque di garantirgli un ambiente studiato, non improvvisato. E quindi diciamo ci differenziamo proprio per questo perché non siamo più un rivenditore di mobili tradizionale, ma vendiamo un'idea. E cerchiamo di metterla a fuoco insieme al cliente e portarla avanti fino alla fine, quindi dandogli anche dei servizi e studiando anche delle cose che non ci riguardano direttamente tipo l'ambientazione, i colori delle pareti, la scelta anche dei materiali soprattutto se è in fase di ristrutturazione per cui parliamo stasera proprio di questo argomento che è la ristrutturazione e cui noi siamo diciamo degli interlocutori che sembrerebbe che dovessimo arrivare alla fine quando invece è importante che uno parta dall'inizio cercando di mettere a fuoco un po' contemporaneamente sia la parte edile, quindi diciamo della divisione degli spazi e degli ambienti, legandola strettamente all'arredamento. Così si possono avere degli ottimi risultati. Ed è per questo proprio che nasce la rubrica ristrutturazione e design, proprio dalla volontà di un gruppo di professionisti del settore, dalla ristrutturazione, quindi da costruzioni edile, la face, abbiamo già ospitato Paolo Laface nella rubrica, altre figure di professionisti, architetti, ingegneri che hanno fortemente voluto questa rubrica proprio perché, come dice spesso Stefano Vico, noi non vendiamo prodotti ma realizziamo progetti, quindi all'interno del vostro negozio appunto il sogno, un'idea del cliente diventa realtà e il progetto dimostra, proprio mostra effettivamente quella che sarà poi la realizzazione finale, vederlo fa tutto un altro effetto. Queste sono le motivazioni per cui vi hanno portato a ridigere questa guida all'acquisto sicuro. Che cosa contiene questa guida? Diciamo in maniera molto sintetica, contiene un po' gli step che noi seguiamo con i nostri clienti e quindi nasce questa collaborazione che come dicevo prima parte da un preventivo, da un'idea di massima di progetto che noi forniamo comunque come prima bozza gratuitamente ai clienti e comprende tutta una serie di servizi che facciamo anche nel campo, quindi all'interno del cantiere quando c'è bisogno e con tutto anche un redigere quelli che sono gli impianti, stabilire gli impianti di casa in relazione poi al mobilio e alla divisione degli spazi. E poi ecco, volevo aggiungere che comunque, tornando a quello che dicevamo prima, il nostro rapporto si estende quindi non solo al cliente finale ma anche ai libri professionisti con cui ci relazioniamo quotidianamente, cioè a partire dall'architetto o dall'ingegnere che segue o il geometra che sta progettando, segue il lavoro, cioè noi andiamo a fondo, entriamo nei dettagli delle cose e proprio cercando di ottenere il risultato migliore. Niente, questa guida all'acquisto che abbiamo redatto, dice un po' proprio, segue questi, sintetizza un po' questi passi che il cliente deve seguire e l'acquisto sicuro, proprio si intende che è tutto quanto compreso nel pacchetto arredo dove ho detto il prodotto è l'elemento finale che il cliente è libero di acquistare o meno, però comunque seguendo questa scalezza. Ecco, poi in questa guida proprio è previsto anche, la mandiamo anche in onda mentre stiamo parlando proprio perché è previsto anche il sopralluogo sul posto per appunto verificare, tante volte si va a comprare i mobili complementi d'arredo già con delle misure che poi alla verifica dei fatti non sono quelle perché devono essere prese da un esperto, quindi dalla rilevazione alla strutturazione, allo studio del mood, di tutto il mood della casa o dell'ambiente, all'arrivo della merce, montaggio, installazione e post vendita che è molto importante, è questo che fa dell'acquisto appunto un acquisto sicuro. Esattamente, sì, diciamo questo iter noi seguiamo strettamente da vicino anche quando il cliente magari ha scelto un libro professionista che segue i lavori, un architetto o chi che sia, comunque noi o ci affianchiamo a questo o alcune volte se il cliente ce lo chiede o non ha direttamente un interlocutore diretto sostituiamo un po' la figura dell'architetto che all'interno di viacarredamenti esiste come figura, quindi diciamo ci accolliamo un po' questo onere, questo impegno proprio per arrivare al risultato finale che è ottimo. Poi dicevo la catena si chiude anche poi con quello che riguarda il montaggio fatto da personale qualificato e tutta l'assistenza che è illimitata diciamo, ecco diciamo noi diamo una garanzia in un certo senso a vita, cioè il cliente che ci chiama dopo tanti anni se ha un problema comunque ci adoperiamo per risolverlo e quindi il cliente ci continua a seguire, ci continua se ha bisogno a venirci a trovare. Questo è molto importante, interfacciarsi con delle persone e non con un brand, infatti è molto orgoglioso del suo team. Sì sì assolutamente, infatti qui ecco introduco anche questa cosa, il nostro team è fatto di persone ecco non di numeri diciamo o di pedine come le vogliamo chiamare e queste persone diciamo sono in sintonia con me perché hanno un po' il mio stesso spirito, la stessa grinta, la stessa voglia di dare qualcosa di personale. Quindi dicevo la vendita di per sé è l'ultimo elemento diciamo che seguiamo e prima abbiamo tutto un approccio diciamo col cliente che è rivolto ad accontentarlo, quindi diciamo poi anche in quello che è l'elemento, la cosa più importante che è la scelta poi dell'arredo, il budget è la cosa, riusciamo diciamo quasi sempre a trovare una combinazione e quindi ad accontentare il cliente e lo staff su questo è esperto ormai diciamo anche loro hanno un rapporto con il cliente e un'esperienza, una professionalità che ci porta ad ottimizzare praticamente quasi il 90% delle vendite in base ai clienti che vengono diciamo, le percentuali vedo che sono molto alte ecco quindi questo mi gratifica molto e gratifica anche i miei collaboratori. Se il cliente torna insomma vuol dire che avete vinto, che la strategia è vincente e lo si apprende anche dalle recensioni dei vostri clienti che sono inseriti all'interno di questa guida, molto importante perché i clienti ci mettono la faccia se non la firma. Esattamente, riceviamo tante diciamo recensioni libere e spontanee da parte dei clienti e questo ci gratifica ancora di più e in questa guida abbiamo voluto proprio nella parte finale in un certo senso elencare alcune, poi la guida c'è qualche mese diciamo, quindi nel frattempo ne sono uscite tante altre e ora di ristamparne una nuova perché queste sono proprio tirate da giù, stampate direttamente da Facebook, dai vari motori di ricerca o dai mail spontanei che il cliente a fine lavoro ci manda e quindi abbiamo voluto stamparle, gratificarle perché c'è più sicurezza di quella non c'è, nel senso che io posso dire di avere un ottimo staff, di essere bravi, quello che uno vuole ma è il cliente finale che poi decide e stabilisce se sei all'altezza o se ti fa una recensione significa che poi è contento perché è libero di non farla oppure di farla negativa magari. Ecco quindi anche un piccolo omaggio ai clienti, se siamo qui oggi in compagnia di Stefano Vico è anche per dare una notizia, per lanciare una novità che riguarda la prossima apertura dello store Lago, è imminente insomma, i lavori sono a buon punto, allora vogliamo raccontare a chi ci sta seguendo dove sarà questo store e ovviamente tutte le novità che troveranno al suo interno e questo diciamo nel cammino intrapreso in questi anni in cui come dicevamo prima ci siamo posti come obiettivo non quello di vendere un mobile ma di vendere delle idee quindi delle idee di progetto, di creare delle atmosfere, di rendere il cliente felice a casa sua con uno spazio accogliente, caldo eccetera e questo unito a diciamo anche richieste di tipo proprio commerciale per un determinato tipo di prodotto abbiamo deciso e trovato diciamo proprio una location nel pieno centro di Ancona dove da qui a breve quindi penso nel mese di dicembre 2020 inaugureremo e apriremo questo nuovo showroom dedicato esclusivamente ai prodotti Lago per quello che riguarda il mobilio e poi con tutta una serie di accessori di illuminazione cartel e forniremo anche dei complementi quali parchè, piastrelle, accessori visto che come dicevo siamo progettisti e questa è un po' la nostra filosofia e questo negozio sarà un Lago Store è il quindicesimo Lago Store in Italia e nelle Marche non c'è, diciamo uno deve cambiare regione per trovare qualcosa di questo genere e quindi un negozio interamente dedicato a tutta la casa quindi è partita dalla cucina al soggiorno, la camera, il bagno, i complementi, accessori, il Mondolago è apprezzatissimo e sta diventando molto conosciuto e un po' da tutti, dai giovani, dai meno giovani perché presenta dei prodotti freschi altamente progettabili, diciamo dove puoi spaziare, puoi progettare tantissimo, hai tantissimi materiali vetro, legno, colore e è un prodotto molto appetibile, molto richiesto e anche di ottima qualità tra l'altro quindi ci siamo fatti carico un po' di questa cosa e in questo periodo diciamo sotto Covid per me è una grande sfida che affronto però con grande coraggio insieme al mio staff, tra l'altro abbiamo introdotto nuove figure all'interno dello staff che ci aiuteranno a seguire un po' questa idea e sono quindi sempre dei progettisti puri, architetti, cioè persone che quindi amano creare degli ambienti e quindi vogliamo proporre alla città d'Ancona questa nuova realtà. Io ringrazio Stefano Vico, titolare di Vico Arredamenti, grazie per essere stato con noi. Grazie a tutti chi riesce a seguire, chi ha seguito questa sera e ringrazio tutti e vi aspetto a questa nuova inaugurazione, se ci sarà un'inaugurazione comunque noi a dicembre apriamo ecco adesso salvo Covid. Perfetto, save the date come si dice, noi ci saremo e daremo la notizia anche ai nostri telespettatori a voi, do appuntamento alla prossima puntata di Eri Strutturazione Design. Arrivederci. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.